Intraprendenza, passione, intelligenza, spirito di gruppo, queste le competenze che come emerso nella cerimonia di consegna del premio Storie di Alternanza, promosso dalla Camera di Commercio Chiedi Pescara, ciascun giovane dovrebbe possedere, perché senza passione, come sottolineato dal Presidente dell'Azienda Speciale delle Camere di Commercio Letizia Scastiglia, e senza impegno non si va da nessuna parte. Non è questo però il caso degli istituti premiati, in cui i ragazzi hanno attinto alle proprie soft skills per impegnarsi in ambiti nuovi dal carattere imprenditoriale. E' lo straordinario progetto dell'Alternanza Scuola-Lavoro, un programma inserito nella cosiddetta Buona Scuola, che prevede per i ragazzi delle superiori un periodo di apprendimento in situazione lavorativa fuori dalle mura della scuola. In altre parole, una meravigliosa opportunità di crescita per gli studenti che, grazie a percorsi progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità della scuola o di altre istituzioni scolastiche, hanno la possibilità di conoscere da vicino le realtà lavorative. Come dice la parola stessa, alternando le ore di studio, a ore di formazione e a periodi in cui possono vivere delle situazioni di ufficio o di vita in azienda o in altro contesto assimilabile a quello lavorativo. Tornando alle storie di alternanza, le scuole che hanno ricevuto i riconoscimenti sono state se in totale tre istituti tecnici, l'istituto Aterno Mantone di Pescara, il Luigi di Savoia di Chieti, il Tecnico Agrario Statale Cuppari di Alanno, tre i licei, il Mario dei Fiori di Penne, il Linguistico De Titta Fermi di Lanciano, il Liceo Scientifico Marino di Casoli. Ad aggiudicarsi il primo premio per gli istituti tecnici, il Tecnico Agrario Cuppari di Alanno, per i licei lo Scientifico Marino di Casoli. Nel primo caso la storia di alternanza premiata è quella della Quarta B, un progetto formativo da ricercare nello studio delle biotecnologie e nello spirito della scuola che induce i ragazzi al desiderio di sperimentare e sperimentarsi in attività di natura interdisciplinare. Il tema è quello dei batteri ed è stato svolto in collaborazione con il Laboratorio ACI. La ragazza protagonista del percorso è riuscita ad esprimere al meglio le proprie potenzialità, a tal punto che ha deciso di proseguire questo percorso anche all'Università Siria. È stata un'esperienza bellissima dove all'interno della scuola abbiamo fatto delle attività microbiologiche, io in particolare poi ho voluto spesso queste mie esperienze in un laboratorio esterno microbiologico. Cosa hai fatto all'interno del laboratorio? All'interno del laboratorio abbiamo fatto tanti tipi di analisi che vanno dall'analisi dell'acqua, a varie analisi di tanti tipi di alimenti come pizze, pane, prosciutto, alimenti agroalimentari. Splendida esperienza che ti ha arricchita? Sicuramente, insomma questa esperienza mi ha orientata nel mio futuro e in una mia scelta universitaria. Quale sarà? Vorrei andare a fare tecnico di laboratorio biomedico a Chieti, proviamoci. Per la categoria licei il premio è andato allo scientifico marino di Casoli con il progetto da alleati a nemici, la rivalutazione storica, turistica, memorialistica del passaggio di guerra. Operando in un comprensorio, quello del Sangro Aventino, che sta vivendo un lento, progressivo depauperamento a causa di fattori economico-strutturali, il tema storico della memoria ha rappresentato la giusta occasione per vagliare gli obiettivi che l'Istituto persegue. Con questo progetto i ragazzi hanno colto il futuro vocazionale del territorio per sviluppare un format molto diffuso nei paesi nord-europei legato al turismo culturale. In particolare è stata simulata l'impresa turistica della memoria con l'ottenimento del titolo di guida qualificata. Silvia. È stata un'esperienza bellissima. Il nostro progetto si è occupato di turismo della memoria. Quindi noi abbiamo voluto promuovere e valorizzare il nostro territorio perché è stato un'area in cui si sono svolte delle vicende belliche e in altre regioni come ad esempio in Normandia si è fatta proprio una ricchezza con questo turismo. Noi abbiamo un patrimonio storico, culturale e memorialistico immenso. Si pensi a tutta l'area del San Graventino, alla linea Gustav, al luogo in cui è nata la brigata Maiella. Per questo noi attraverso questo progetto di turismo della memoria abbiamo appunto cercato di valorizzare il nostro territorio. Poiché questo progetto è stato accolto con grande entusiasmo sia dai nostri docenti che dalla preside, ci è stata offerta l'opportunità di andarlo a presentare in Belgio alla cena annuale dell'International Guild of Battlefield Guides in cui erano presenti i maggiori esponenti del Commonwealth internazionale. Per cui io e il mio compagno di classe, che siamo stati scelti come rappresentanti, siamo andati appunto a rappresentare il nostro progetto e sono stati tutti molto soddisfatti anche perché abbiamo dovuto fare una presentazione interamente in lingua inglese, per cui è una lingua straniera e non era semplicissimo. Però è stato accolto con grande entusiasmo, è piaciuto tantissimo, tant'è che siamo stati premiati con una spilla che ci ha dato la possibilità di fare le guide del turismo della memoria per un anno, fino a febbraio di quest'anno. Interessante la testimonianza dell'imprenditore Fabio Didonato, 33 anni, diploma all'Agrario Cuppari di Alanno, laurea in Enologia, tra i primi ad aver sperimentato i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Forte di questa esperienza ha preso in mano le redini dell'azienda di famiglia ristrutturando il seminterrato di casa e ricavandone un piccolo ma funzionale locale di trasformazione. L'esperienza ai ragazzi devono assolutamente alternare quelli che sono gli studi scolastici a quella che è la vita lavorativa, le realtà locali, parlando dell'Abruzzo, quindi di aziende agricole, di territorio. Il ragazzo apprende, io per quanto posso, la mia esperienza, il ragazzo apprende tanto a scuola quanto sul campo ed è fondamentale perché dopo una volta usciti usciti da scuola, dopo ti trovi in una guerra. È una competizione infinita, è una competizione che cresce, quindi la scuola deve formare uomini, guerrieri, condottieri. La tua storia cosa racconta? La mia storia? Io mi sono diplomato all'Istituto Agrario PQ Peridi Alanno nel 2003, ho iniziato all'Università di Viticoltura e Deenologia a Mocciano Sant'Angelo e nel frattempo lavoravo durante le vendemmie nell'azienda agricola Chiusa Grande di Nociano, di Franco De Usagno. Da là ho iniziato, quindi praticamente mettevo in atto quello che studiavo, quindi la parte teorica che facevo a scuola. Come esperienza è stata fondamentale, è stata fondamentale perché praticamente avevo a che fare tutti i giorni con le problematiche reali di quelle che sono le attività lavorative. In più avevo una piccola azienda agricola, avevo allora una piccola azienda agricola a casa di mia madre e quindi oltre a fare l'esperienza nell'azienda agricola grande, facevo l'esperienza nella mia piccola azienda con le mie piccole vinificazioni, le prove, fino a che dopo diversi anni di prove ho deciso di aprire un'attività vitivinicola. Una bella storia. Una bella storia, sì. Percorsi di alternanza molto importanti per tutti i soggetti coinvolti, per i ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro cimentandosi nel fare esperienze concrete, per gli imprenditori che in questo modo possono alzare lo sguardo riuscendo a cogliere le potenzialità dei giovani. La Presidente Letizia Scastiglia. Ci arricchisce reciprocamente perché ovviamente chi ha partecipato e avrà modo di vedere i video che verranno pubblicati nel sito della Camera di Commercio Chieti Pescara si renderà conto che sono stimolanti perché si vede la passione dei giovani nel cercare comunque di non fare percorsi standard. Il percorso che ha visto coinvolti la scuola primaria con l'Istituto Industriale per la Creazione di Robot ne è una. Il percorso della memoria, l'ultimo e quello che ha vinto, ne è un altro perché insomma ci richiama un po' la nostra storia, le nostre radici e a quello che la nostra terra ha vissuto storicamente. Ma anche il video del ragazzo in alternanza e non vedente che ha fatto il percorso di alternanza nella Croce Rossa quindi unisce i valori che sono quelli di una società che noi definiamo diciamo così inclusiva come effettivamente inclusione praticata perché questo ragazzo inizierà a fare il proprio percorso nella Croce Rossa, ha scoperto la Croce Rossa quindi i valori che essa ha e inizierà a fare questo percorso. Quindi diciamo è un percorso che ci ha visto veramente crescere sia dal punto di vista diciamo così di valori sociali ma anche di valori importanti che sono quelli a cui poi è finalizzato il premio, cioè quello di fare incontrare gli studenti col mondo delle imprese, tutte le imprese, anche la Croce Rossa è un'impresa, lavorare nel sociale è un modo di fare impresa. Quindi questo diciamo che è l'aspetto fondamentale importante e ci aspichiamo che in futuro il premio sia vissuto da scuole e soprattutto della nostra provincia più interna. Azioni di alternanza che dunque rappresentano un punto fondamentale per la crescita dei ragazzi. Più percorsi vengono attivati più chance si hanno come dimostrano le indagini di trovare lavoro serio e qualificato. Davide. Soprattutto con questa esperienza siamo riusciti veramente a capire una grande parte del mondo che c'è fuori da scuola. Quanto vi sentite arricchiti? Di conoscenze molte e in questa età bisogna sviluppare soprattutto le conoscenze. La Croce Rossa è nata per portare il soccorso. Quanto tempo da allora è trascorso. L'ente non fa nulla distinzione di nazionalità e la favoreggione. Opera per giovanini e sociali. A livello nazionale e locale. E' dalla parte dell'umanità portando tutto questo forzo solo con l'affettosità. A lanciare i volontari sono circa 400 con l'ambulanza sempre in movimento. Loro sono una grande squadriglia che messi insieme formano una grande famiglia. La Croce Rossa è nata per portare il soccorso.